Ciao, buongiorno, rieccomi. Lo so, questo effetto è quello che mi piace di più di tutti, ragazzi, abbiate pazienza. Allora, oggi, finché rimane tra l'altro, oggi vi racconto, vi prendo poco tempo, vi racconto di una decorazione di interni, una delle prime. Credo di averla fatta giusto dopo la cameretta incantata, quindi proprio una delle primissime. Per la cameretta del bimbo di un'amica, Lorenzo, di una carissima amica, che doveva ancora nascere, abbiamo pensato dove posizionare il lettino, e in base a questo siamo andati a realizzare questo che chiamo albero gufoso, quindi un bell'albero che circonda il lettino con i gufettini. Il tempo in cui l'ho realizzato è di circa otto ore, quindi insomma una giornata piena, sempre utilizzando i soliti colori acrilici. E ancora adesso, sono passati appunto tanti anni, posso garantirvi che è come appena fatto, quindi un ottimo risultato, un ottimo mantenimento nel tempo, un'ottima brillantezza, e quindi appunto questi murales rimangono veramente per degli anni, per degli anni. E basta, vi lascio come al solito alle foto, e ci vediamo al prossimo video. Stessa cosa per gli altri video, se vi sono piaciuti, like e iscrizione al canale. Ciao, grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!